Tre interdittive antimafia sono state adottate dal prefetto di Potenza Michele Campanaro nei confronti di un'impresa individuale del settore della somministrazione di alimenti e bevande con sede a Melfi e di due imprese di Potenza operante nel settore dei servizi ambientali. Le indagini sono state condotte dalle forze di polizia, dalla direzione investigativa antimafia e dal gruppo ispettivo antimafia della stessa prefettura. Salgono così a 12 i provvedimenti adottati da inizio anno destinati a società e operatori commerciali direttamente o indirettamente condizionati dalla criminalità organizzata.